...e per essere sicuri che il giuramento sia mantenuto per tutti i tempi, dobbiamo chiedere una cosa. Beh, coraggio, che cosa? Devi lasciare un ostaggio. Tuo figlio. Mi rifiuto perfino di discuterne. Come possono solo immaginare che io ti lasci qua? Perché credono che sia venuto. Ma è una condizione inderogabile. Io non l'accetterò mai. Papà, senza un ostaggio nessuno di noi potrà andare via. Maledizione, resterò io in ostaggio. Non credo proprio, Serentoni. Abbiamo infatti raggiunto un accordo fra di noi. E molto soddisfacente per tutti quanti, ritengo. È sicuro che è questo che vuole? È proprio sicuro che vuole essere abbandonato? Sì, ne sono sicuro. Questa è un'occasione che un archeologo accetta con gioia. Non soltanto studiare il passato, ma riviverlo. Qui tutto era stato nascosto per oltre mille anni. E io non ne ho neppure scalfito la superficie. E poi chi dice che io venga abbandonato? Per noi archeologi la visione è diversa. Intere civiltà sono svanite prima d'ora, Serentoni. Un giorno può darsi, questo potrebbe essere per l'uomo l'ultimo rifugio. In bocca al lupo. Su, andiamo. Chi è? Addio, amici miei. Grazie a tutti.